Ma hey, questa è la terza e ultima parte della guida alle speedrun. Nei primi due video avevo parlato prima dell'overworld, della prima parte della speedrun, poi del nether, della seconda parte e in questo video parlerò di come trovare la stronghold, di come uccidere l'ender dragon e di come cercare di ottimizzare la conclusione della vostra speedrun. E come ho detto nel secondo video, tutte le premesse riguardo a questa serie le ho già fatte nel primo video, quindi non mi ripeterò. Un'altra cosa che ci tengo ad aggiungere prima di cominciare questo video è che in molti nei commenti degli scorsi video mi avete chiesto come installare il timer che vedete nelle stream degli speedrunner, come avere la luminosità alta come ce li hanno gli speedrunner, come installare la mod che utilizzano gli speedrunner e tutte queste informazioni molto più tecniche che hanno a che fare più col pc che è minecraft in sé, ve le porterò in un prossimo video tutorial e quindi ci sarà una quarta parte extra. E infine, ultima premessa di questo video, in continuazione in questo periodo vengono formulate nuove teorie, verificate nuove teorie più efficienti di quelle vecchie che magari vanno a sostituire alcune teorie vecchie o metodi vecchi, quindi per farvi un esempio in questi giorni è uscita una nuova X-Ray Fort ovvero un modo per entrare nel nether e sapere in che direzione c'è una fortezza così come vengono continuamente formulate altre teorie su come muoversi nella stronghold, come trovare una stronghold più facilmente quindi probabilmente se state guardando questo video dopo mesi da quando è uscito, alcune cose potrebbero essere un po' antiquate mentre alcune cose potrebbero ancora valere. Nel caso in futuro vogliate dei video su queste nuove tecniche o anche dei video un po' più avanzati e più specifici riguardo ai video che ho fatto fatemelo sapere con un commento. Direi che è arrivato il momento di iniziare col video, enjoy! Alla fine dello scorso video vi avevo accennato il blind travel. Il blind travel è una tecnica che permette tramite un portale del nether, diverso da quello da cui si è entrati nel nether di uscire dal nether e di trovarsi vicino a una stronghold. Prima di parlare di ciò però preannuncio già che praticamente tutte le cose che dirò in questo video si rifanno molto all'utilizzo di F3 e soprattutto all'utilizzo di coordinate, quindi se non avete dimestichezza con queste cose sarà difficile per voi capire provateci lo stesso, fate in modo appunto di avere un po' di dimestichezza con le coordinate perché saranno essenziali per l'utilizzo di tantissime delle tattiche che spiegherò in quest'ultima e terza parte. Quello che sto per dire vale solo se si dispone ovviamente dell'ossidiana per creare un altro portale nel nether, altrimenti tutto quello che dico non avrebbe senso perché voi non avreste l'ossidiana per creare un altro portale nel nether l'unico modo per tornare nell'overworld sarebbe rientrare dal portale da cui siete entrati nel nether quindi semplicemente l'unica cosa che dovreste fare è ritrovare il vostro portale e rientrarci e tornare nell'overworld. Partiamo col dire che una volta che avete generato il vostro mondo, proprio la prima volta che aprite il vostro mondo spawnerete massimo 300 blocchi da 0-0. Come potete vedere in questo momento sono spawnato a circa meno 213 e meno 116 quindi non spawnerete mai a meno 10.000 o più 10.000 o cose di questo tipo spawnerete sempre relativamente vicino a 0-0 appunto qualche centinaio di blocchi. Essendo che 8 blocchi nell'overworld sono un blocco nel nether queste coordinate nel nether si tramuteranno infatti in circa una cinquantina di blocchi da 0-0 super giù poi ovviamente può variare molto però insomma alla fine se costruite un portale nell'overworld molto vicino a dove siete spawnati ad esempio là c'è una pozza di lava se costruissi un portale in questa pozza di lava sarei comunque molto vicino a 0-0 anche nel nether è appunto per questo che nello scorso video ho spiegato il metodo dei quadranti ed è appunto per questo che il metodo dei quadranti è così utile. Tenendo presente appunto che noi all'inizio del mondo siamo vicini a 0-0 bisogna spiegare dove sono le stronghold perché ovviamente ce n'è più di una. Direttamente dalla wikipedia di minecraft troviamo un diagramma che mostra chiaramente diversi anelli in cui possiamo trovare diversi diverse stronghold. Nel primo anello possiamo trovare 3 stronghold, nel secondo anello possiamo trovarne 6, nel terzo 10 e così via insomma aumentano man mano che ci allontaniamo a 0-0. Chiaramente cercando di concludere in maniera veloce il gioco abbiamo bisogno di percorrere meno strada possibile quindi l'anello, il primo anello, un anello che va da un range di 1400 fino a 2688 blocchi è quello che ci interessa. Cosa significa quest'anello? Significa che all'interno di quest'anello che appunto va da 1400 a 2688 blocchi ci possono essere 3 stronghold per l'appunto nel primo anello. Queste stronghold avranno una differenza di 120 gradi l'una dall'altra quindi non potrete mai trovarvi due stronghold vicine ma cosa più importante queste stronghold possono sponare in qualsiasi punto di questo anello cioè possono sponare a 1400 blocchi da 0-0 oppure possono sponare anche a 2688 blocchi da 0-0 così come una può sponare molto vicino, una molto lontano, insomma ci sono diverse posizioni con cui possono sponare queste stronghold questo è molto importante perché ciò significa che uscendo in determinati punti del nether appunto punti che corrispondono all'anello che va da questo range, 1400 a 2688 blocchi si ha più probabilità di trovare una stronghold rispetto a fare un portale a caso nel nether oppure semplicemente uscire nel portale da cui si è entrati da cui poi bisognerà percorrere a piedi 1400 blocchi e quindi ci si metterà una discreta quantità di tempo ma qual è il punto del nether che corrisponde infatti a quest'anello? qual è la coordinata più giusta per cercare magari di sponare a metà dell'anello in modo tale da trovarsi alla minore distanza possibile probabilisticamente da una stronghold? dato che appunto un blocco nel nether corrisponde a 8 blocchi nell'overworld il range che è stato studiato da molti speedrunner molto più bravi di me e che io vi riporto in questo video è da circa 200 a 220 blocchi ovviamente quando intendo 1400 blocchi da 0-0 nell'overworld o 200-220 blocchi da 0-0 nel nether si intende la somma delle coordinate quindi se in questo momento io andassi a vediamo un po' a 170, 180 e meno 96 in questo caso potrebbe sembrare che io non sia nel range 200-220 perché non ho delle coordinate 200 ma in realtà quello che dovete applicare è il teorema di Pitagora dei triangoli quindi semplicemente queste due distanze descrivono la mia distanza da 0-0 in quella direzione e in quella direzione ma 0-0 è lì quindi la distanza che conta è questa, quella dritta davanti a me e dunque questa distanza facendo circa il teorema di Pitagora con meno 181 e meno 99 viene appunto in range intorno ai 200 e 220 blocchi questa parte è discretamente difficile anche da spiegare quindi se avete domande assolutamente vi invito a farle nei commenti ovviamente come tecnica non è infallibile, non significa che una volta che torneremo nell'overworld saremo per forza di cose vicino ad una Stronghold potremmo essere comunque molto lontani, magari siamo usciti nell'angolo sbagliato o comunque la Stronghold è all'estremità dell'anello ovviamente essendo proibito qualsiasi uso di calcolatrici nelle speedrun appunto non è che potete spendere tanto tempo facendovi i vostri calcoli ma semplicemente andate un po' ad occhio, a sensazione sfruttando le vostre conoscenze matematiche della vostra istruzione ci sono in realtà delle coordinate diciamo di riferimento per fare dei portali che vi metterò in sovraimpressione che sono appunto coordinate di distanza quindi non significa che come vedete hanno tutti il segno positivo allora potete fare solo quando le coordinate sono positive ovviamente vale anche per delle coordinate negative quindi una volta che magari ci troviamo intorno a quelle coordinate sono coordinate anche abbastanza semplici da ricordare sarà la cosa migliore sarà cercare di andare in questi punti approssimativamente e fare un portale in questi punti che sono i punti diciamo migliori appunto in cui creare il nostro portale del nether quando create il vostro portale del nether dovete crearlo o comunque è meglio crearlo in una posizione sopraelevata altrimenti circa il 30% dei portali che vengono creati sponano nelle caverne quindi creando il portale in un punto più alto avrete più possibilità di sponare nell'overworld cioè sull'overworld appunto in superficie e non sotto terra oltre al blind travel volevo spendere due parole riguardo all'educated travel che è esattamente la stessa cosa del blind travel ma viene aggiunta una componente in più che facilita ulteriormente la localizzazione e anzi facilita ulteriormente il rientro nell'overworld vicino ad una stronghold educated travel tuttavia è consigliabile solo se ci si trova vicino al proprio portale iniziale del nether quindi non si è lontano tanti blocchi da appunto il portale da cui si è entrati nel nether la prima volta e in realtà nelle run di alto livello non lo si vede troppo spesso perché comunque se anche è più affidabile presenta una perdita di tempo maggiore invece che costruire appunto un portale in un angolo a caso rischiando appunto di trovarsi molto lontano dalle stronghold una cosa che si può fare è tirare l'occhio vedere l'angolo della stronghold quindi capire nel primo anello in che direzione andare in qual è l'angolo della stronghold entrare nel nether e mantenere lo stesso angolo in questo caso aprendo f3 tiro il mio occhio vedo più o meno l'angolo a cui sta andando il mio occhio che è circa 1,5 l'angolo è quello che vi zoomerò nel video essenzialmente entrando nel nether proviamo a mantenere lo stesso occhio ovviamente si può entrare nel nether già appunto mirando la stessa direzione 1,5 sarebbe quindi in questa direzione si va in questa direzione di circa appunto 200 blocchi quindi in questo caso sta aumentando una sola coordinata facciamo circa così costruiamo un nether portal e ci troveremo molto più vicino alla stronghold avremo molta più possibilità di avere una stronghold vicina infatti in questo caso è 500 blocchi di distanza quindi relativamente vicina molto meglio di molte altre coordinate e soprattutto appunto come vedete sarà sempre in quest'angolo o l'avrete superata in questa direzione ma l'angolo dato che l'avete preso prima è sempre giusto sarà solo una questione di distanza dal 0,0 a questo punto una volta che siamo usciti dal nether appunto non rimane altro che trovare la stronghold una volta che siamo usciti nelle zone con più probabilità di trovarsi vicino ad una stronghold ovviamente qua c'è una componente randomica di fortuna molto importante per gli speedrunner molte run finiscono semplicemente perché le persone fanno un blind travel o comunque spawnano in punti molto lontani dalle stronghold ci mettono troppo a raggiungerli e semplicemente non riescono a completare la run o a fare il loro personale con un buon tempo insomma dicevo una volta che siamo tornati nell'overworld l'unica cosa che ci rimane da fare è trovare la nostra carissima stronghold e per farlo ci servono gli ender eye cose che ovviamente abbiamo perché abbiamo preso le ender e le blazelode quindi in questo caso siamo usciti dal nether siamo appunto in coordinate che rispecchiano il primo anello e la stronghold potrebbe essere in questo primo anello da qualsiasi parte potrebbe essere di là potrebbe essere di là potrebbe essere qua sotto insomma potrebbe essere da qualsiasi parte l'unica cosa che rimane da fare è lanciare un occhio lanciando l'occhio come per quanto riguarda l'educated travel si guarda l'angolo soprattutto perché è molto importante per la triangolazione per capire dove è la stronghold e per capire come trovarla in fretta quindi in questo caso sono in questa posizione come si lancia l'occhio guardando per terra perché se io lancio l'occhio guardando il cielo rischio di perdermelo dove è finito l'occhio? ok è andato di qua magari non faccio neanche in tempo a vedere l'angolo che l'occhio si rompe e quindi me lo perdo completamente e quindi ho sprecato un occhio completamente oppure ad esempio mi trovo in una foresta come queste qua quindi lancio l'occhio e non capisco nemmeno dove si è andato cosa molto importante l'occhio si lancia guardando per terra quindi guardo dov'è vedo proprio la direzione in cui va prendo l'angolo in questo caso l'angolo è 114.6 circa quindi so che la stronghold è in quella direzione potrebbe essere lì sotto potrebbe essere molto lontano l'unica cosa che so è che è in questa direzione il metodo della triangolazione si basa appunto su un triangolo questo video ha molto a che fare con i triangoli in fin dei conti una volta tirato il primo occhio infatti ci spostiamo di circa 50 blocchi o in questa direzione o in quella direzione insomma in direzioni con cui poi possiamo triangolare la stronghold quindi ad esempio mi sposto di 50 blocchi in questa direzione mi metto circa qua a questo punto posso tirare un altro occhio in base alla differenza dell'occhio dell'angolo in cui andrà l'occhio tra quel punto lì e questo punto qui posso fare la mia triangolazione facciamo un esempio in questo caso lancio di nuovo l'occhio l'occhio va di qua l'angolo di prima era 114.6 adesso è 130.2 quindi l'angolo è variato addirittura di 15 punti 15 punti significa che è variato tantissimo significa che la stronghold è circa quanti blocchi? 200? 100? vediamo slash locate stronghold 140 blocchi addirittura questo metodo è importante perché al di là di voi stessi che vedete più o meno quando le traiettorie coincidono in questo caso io ho lanciato il mio enderai la traiettoria andava di là l'ho lanciato da quassù la traiettoria andava di là quindi più o meno tracciando il mio triangolo il vertice del triangolo sarà appunto in questa zona che sono appunto circa 140 blocchi da dove ho lanciato il mio occhio del land al di là di ciò c'è proprio una tabella che vi può aiutare a capire quanto la differenza di un lancio possa essere indicativa se la differenza dell'angolo del lancio tra un lancio e l'altro fatto a 50 blocchi più a sinistra o più a destra è di tanto significa che la stronghold è molto vicina mentre se è di poco significa che la stronghold è potenzialmente molto lontana quindi dovreste percorrere magari tanti tanti blocchi per raggiungerla se l'angolo varia di 15 gradi significa appunto che la stronghold è vicinissima se varia di un grado significa che invece la stronghold è molto molto lontana e c'è ancora tanta strada da percorrere una cosa molto importante non sempre gli speedrunner lanciano due occhi subito molto spesso magari semplicemente lanciano un occhio percorrono qualche centinaio di blocchi e poi ne lanciano un altro e quando si accorgono di trovarsi vicino ad una stronghold allora fanno la triangolazione dipende dalle vostre preferenze una volta che più o meno sappiamo quanto è lontana la stronghold non rimane altro che andare verso la stronghold quindi appunto si percorre la linea proprio l'angolo che abbiamo preso dal nostro occhio dell'end una volta che ci troviamo circa sopra la stronghold però dobbiamo trovare il chunk giusto il chunk giusto significa il chunk preciso dove scavare per entrare nella stronghold potreste anche infatti essere molto vicino alla stronghold la stronghold potrebbe essere lì ma io scavando qua sotto potrei avere sfiga e non trovare assolutamente niente e quindi sprecare tempo molto prezioso quando si arriva vicino alla stronghold ad esempio si tira un altro occhio in questo caso è aggirato quindi è indietro mi sposto di nuovo come prima faccio un'altra triangolazione mi sposto di nuovo lancio un altro occhio come potete vedere di qua di qua la stronghold sarà circa qui a questo punto si può premere F3 più G che mostra i bordi dei chunk quindi in questo caso come vedete ci sono diversi chunk eventualmente si può lanciare un altro occhio dell'end per capire se il chunk che avete scelto è quello giusto in questo caso io ho lanciato due occhi laggiù due occhi qua per triangolare proprio il chunk preciso e un ultimo occhio per sicurezza sono cinque occhi sono tanti se ne possono lanciare anche tre dipende anche da quanto voi vi sentite confidenti in voi stessi da quanto credete di aver triangolato bene una cosa molto importante che si fa quando si arriva nei pressi di una stronghold è lanciare l'occhio in questo caso l'occhio va dritto di qua e mentre cammino in questa direzione quindi mentre vado in questa direzione piazzo dei blocchi in modo da capire appunto esattamente la linea dritta da cui sto arrivando quindi da non perdere il segno e da non perdere proprio l'orientamento quindi in questo caso stavo andando in questa direzione vado più o meno in questa direzione ci sono un po' di alberi quindi la traiettoria non è proprio drittissima ma avete capito mi sposto di un po' di blocchi tiro il mio occhio il mio occhio va di lì lo seguo mi unisco appunto alla mia traiettoria e come vedete ho trovato il chunk giusto infatti se tiro l'occhio va giù va per terra dentro il terreno quindi abbiamo trovato il chunk della stronghold a questo punto dobbiamo scavare per trovare la stronghold ma c'è un punto in particolare del chunk molto importante per scavare che è il punto 4-4 come per quanto riguardava la barca bisognava scavare nel punto 9-9 per quanto riguarda il chunk della stronghold scavare nel punto 4-4 è il punto migliore semplicemente perché come vi faccio vedere andando in spectator la stronghold come potete vedere è qui ma la scala iniziale la scala principale il punto di riferimento della stronghold che servirà anche per come navigare la stronghold è nel punto 4-4 quindi una volta che ci troviamo nel chunk giusto appunto in superficie provando a trovare il punto 4-4 quindi girate un po' finché non trovate il punto 4-4 scavate giù e vi troverete appunto nella scala principale della stronghold la stronghold non è però sempre sotto terra a volte può trovarsi anche esposta nell'oceano nel caso sia esposta nell'oceano ovviamente il consiglio è di scavare nel punto in cui trovate la stronghold esposta oppure stare molto attenti a se vedete la stanza del portale la stanza del portale è una stanza che è illuminata quindi la si nota se è appunto esposta è la stessa nell'oceano è confondibile con qualche altra stanza della stronghold come ad esempio la biblioteca quindi appunto guardate bene la stanza del portale si riconosce perché ha una serie di finestre con grate molto molto peculiari ovviamente nel caso troviate una stronghold esposta è quasi una manna dal cielo perché non dovete perdere tempo né a cercare il chunk giusto né a scavare sotto terra per trovare la stronghold stessa adesso è arrivato invece il momento di parlare della stronghold di come navigare la stronghold la scala principale la scala iniziale della stronghold la cosiddetta starter staircase la scala iniziale è infatti il punto di riferimento per la navigazione della stronghold è come se fosse il tronco o la radice di un albero il portale si trova invece in uno dei rami se scegliete il ramo sbagliato l'unico modo per trovare il ramo giusto è ritornare prima al tronco quindi alla scala iniziale e poi scegliere un'altra strada quindi un altro ramo non potete passare da un ramo all'altro direttamente questa è una metafora per esemplificarvi il concetto del fatto che se entro tot stanze dalla scala iniziale più precisamente 5 stanze non trovate il portale del land una delle cose migliori da fare e da considerare è sempre quella di tornare alla scala iniziale per scegliere un'altra strada c'è un grafico probabilistico secondo cui più lontano dalla scala iniziale si va meno probabilità c'è di trovare il portale del land quindi generalmente se percorrete almeno 5 stanze e non trovate appunto il vostro portale del land in questo caso significa che molto probabilmente dovete tornare alla scala iniziale e scegliere un'altra strada nel caso vi perdiate quindi non riusciate a trovare la strada per tornare alla scala iniziale c'è un modo per capire come tornare all'inizio o che riguarda soprattutto le porte se infatti troviamo una porta come ad esempio questa come vedete in questo caso la porta è adiacente ai blocchi quindi se ci cammino sopra posso camminare tranquillamente sui blocchi e sulla porta consecutivamente quindi non vado a sbattere contro nessuna cosa mentre se la apro dall'altra parte come vedete è incassata nella parete diciamo quindi quando la troviamo incassata significa che se la apriamo stiamo andando verso la scala iniziale in questo caso ad esempio invece non è incassata quindi da questa parte non si va verso la scala iniziale mentre se fossi dall'altra parte di questa porta è incassata quindi dov'è la scala iniziale vado di qua questa non è incassata non è qua quindi la scala iniziale infatti è questa qua trovando magari una stronghold infatti esposta in un oceano ma non con la stanza del land portal esposta magari si capita in una parte della stronghold che non è la scala iniziale per raggiungere la scala iniziale basta appunto seguire le porte secondo questo metodo che vi ho appena spiegato e ci si può arrivare in maniera molto efficiente un'altra cosa molto importante che vi consiglio è di o aprire bene le orecchie oppure attivare i sottotitoli del gioco appunto attivando i sottotitoli potete sentire il rumore della lava o dei silverfish potete anche capire quando siete in una parte della stronghold che è corretta che si trova vicino appunto al portale un'ulteriore cosa importante nella stronghold possono esserci delle stanze segrete nella stanza iniziale appunto la stanza che trovate subito dopo la scala iniziale la starter staircase possono infatti esserci delle stanze segrete in particolar modo il posto in cui possono esserci è questo posto qua dietro questo muro dietro questo muro nel caso sia interrato dietro questo muro e dietro questo muro ci sono dei modi molto efficienti per capire se effettivamente si trova una stanza segreta innanzitutto bisogna vedere che direzione stiamo guardando se una volta che scendiamo dalla scala ed entriamo in questa stanza stiamo guardando sud oppure est significa che non ci sono stanze segrete quindi semplicemente se scavo di qua non c'è nessuna stanza così come se scavo di qua non c'è nessuna stanza così come se scavo di qua non c'è nessuna stanza segreta in questo caso invece sto guardando west che sarebbe ovest oppure nord e in questo caso invece possono esserci delle stanze segrete capite dove sono le stanze segrete semplicemente grazie agli incavi della parete come potete vedere ad esempio in questo caso la parete è leggermente incavata quindi come vedete c'è una porta leggermente incavata così come in questo caso troviamo questa incavatura dietro c'è della pietra ma in questo caso troviamo dell'incavatura se troviamo un'incavatura significa che nell'altra parte dallo stesso lato c'è una stanza segreta in questo caso sto guardando west quindi è giusto c'è un'incavatura lì quindi qua dietro infatti ci sarà una stanza segreta ovviamente non significa che la stronghold sarà in questa direzione per forza di cose però molto spesso può essere quindi state molto attenti a vedere le stanze segrete molto spesso accade una cosa del genere quindi dovete stare molto attenti appunto a riconoscere le stanze segrete anche perché potreste proprio non trovare la stronghold da nessuna parte e non sapendo della stanza segreta potreste ignorare completamente la cosa per farvi un esempio adesso ho ammurato quella parte lì in questa parte qui come vedete c'è un incavo quindi come prima un incavo da questa parte significa stanza segreta da questa parte un incavo da questa parte significa stanza segreta da questa parte e così via insomma le due parti della stronghold sono collegate ovviamente dovete assicurarvi di guardare o nord o west altrimenti la cosa non funziona detto ciò trovate il vostro portale del land lo completate con gli occhi che avete ovviamente i portali possono avere già degli occhi dentro quindi nel caso se ne rompa qualcuno e non avete gli occhi per evenienza avete comunque una possibilità di riuscire comunque ad entrare nel land e ovviamente si entra velocemente e poi si arriva al land è arrivato quindi il momento di parlare di come battere l'ender dragon come sconfiggere l'ender dragon in maniera veloce la tecnica più utilizzata per uccidere il drago e per porre fine alle speedrun è il one cycle il one cycle consiste nell'utilizzo di letti questo è il motivo per cui fin dall'inizio vi avevo detto di magari prendere dei letti da un villaggio se spawnate vicino ad un villaggio all'inizio della speedrun oppure di prendere stringhe dai piglins nel caso non abbiate i letti già craftati uno dei momenti migliori per craftarli è quando state ammazzando i blaze infatti infatti durante il cooldown dello spawner prima che spawni altri blaze che voi potete ammazzare avete il tempo di appunto piazzare una crafting table e craftarvi i letti e quindi non dovete poi perdere tempo prezioso durante la speedrun in altri momenti in questo video parlerò solo del one cycle fatto tramite l'ossiliana perché è un one cycle più facile è il più efficiente non parlerò di altre strategie un po' più avanzate semplicemente perché questo tutorial vuole essere un tutorial base e non vuole durare soprattutto due ore per questa strategia è quindi importante avere dell'ossiliana anche della crying obsidian va bene anche semplicemente un solo blocco di crying obsidian va bene spesso la crying obsidian la droppano i piglins quando magari appunto state tradando con loro nel nether quindi questa è una cosa magari di cui molto spesso gli speedrunner nemmeno si preoccupano perché già ne hanno un po' nel loro inventario grazie ai trade dei piglins innanzitutto prima di parlare di come utilizzare i letti più precisamente facendoli esplodere nel land quindi provando a dormirci facendoli esplodere e causando danno al drago tramite l'esplosione è meglio parlare di come far giungere il drago come potete vedere in questo momento alla fontana centrale la fontana centrale è infatti dove noi spesso tempismo e piazzando i letti con un precedente tempismo riusciremo a fare danno al drago ma prima dobbiamo capire come spingere il drago a scendere appunto sulla fontana centrale perché molto spesso volerà in giro andrà in giro intorno ai pilastri vi sparerà le sue palle di fuoco quello che sono insomma non sempre capita che si diriga alla fontana centrale velocemente ci sono delle cose che voi potete fare per cercare di controllarlo più facilmente innanzitutto dovete tenere presente che quando spawnerete voi spawnerete sempre a est del land quindi guardando i pilastri guardando il drago voi sarete sempre a est infatti in questo momento sto guardando i pilastri e sto guardando a ovest quindi appunto significa che là c'è l'ovest quindi la vostra piattaforma sarà sempre a est questa cosa è molto importante perché per spingere il drago a scendere sulla fontana centrale ci sono due strategie una strategia che si rifà alle coordinate est-ovest quindi est dove c'è il nostro portale e ovest dove guardiamo mentre andiamo verso la fontana centrale oppure alle strategie nord-sud che ovviamente sono le altre due direzioni la strategia est-ovest consiste quindi nello spawnare nella nostra piattaforma che si trova a est guardando verso ovest quindi guardando verso la fontana arrivare alla fontana centrale e piazzare i blocchi di ossidiana o meglio un blocco di ossidiana il blocco importante è questo qui in questo modo quindi qua sotto può esserci qualsiasi blocco può esserci un blocco di enzo non importa quali sia questo blocco il blocco importante è questo blocco qua di ossidiana quindi generalmente gli speedrunner arrivano per assicurarsi di costruire bene magari fanno anche un piccolissimo pillar piazzano un blocco piazzano la loro ossidiana dopo aver piazzato i blocchi in questo modo si ritorna da dove siamo arrivati quindi si ritorna verso la nostra piattaforma quindi si ritorna a est dopodiché bisogna aspettare che il drago faccia una cosa chiamata perch che è appunto scendere sulla fontana per cercare di controllare ulteriormente il drago in modo che faccia questo perch si può anche costruire costruendo verso l'alto arrivando ad un'altezza di circa Y123 appunto si ha più possibilità di controllare il drago nello scendere ovviamente questo controllo della discesa del drago è a livello probabilistico quindi potrebbe andarvi male potrebbe comunque non scendere in 5 minuti come potrebbe andarvi bene potrebbe scendere in pochissimo tempo nella strategia est ovest una cosa molto importante è che il drago vi accorgete che sta per scendere perchè inizierà a fare delle spirali intorno al al pilastro opposto rispetto a quello su cui voi avete costruito come vedete in questo momento sta facendo delle spirali intorno al pilastro opposto e ad un certo punto farà uno scatto improvviso verso la fontana centrale è molto riconoscibile lo scatto può andare molto in alto il drago come può fare solo poche spirali e scendere subito verso il basso in questo caso ha fatto uno scatto ve ne accorgete proprio perchè appunto sta girando intorno al pilastro all'improvviso si gira verso la fontana centrale e dopodiché inizia a volteggiare intorno alla fontana centrale mentre sta per scendere quindi appena voi vedete lo scatto anche quando vedete le spirali voi potete già capire che il drago sta per scendere la strategia est ovest invece è esattamente la stessa cosa ma invece che tornare dalla direzione da cui siamo arrivati andiamo invece in un'altra direzione così come l'ossidiana centrale la piazziamo in modo diverso quindi come vi dicevo arriviamo da est piazziamo l'ossidiana in un altro modo quindi piazziamo l'ossidiana stavolta da questa parte della fontana centrale quindi la piazziamo guardando verso sud dopodiché andiamo invece verso nord una cosa molto importante è che come vedete andando dritti verso nord dalla fontana centrale e il drago intanto è già sceso segno che questo questo controllo del drago comunque un po' funziona non c'è un pilastro in mezzo se infatti se infatti est ovest hanno dritti dalla fontana centrale due pilastri dalla parte di nord sud invece non c'è alcun pilastro quindi non potrete utilizzare nessun pilastro per aiutarvi nel salire stessa cosa di prima se si costruisce sia per possibilità che il drago appunto scenda tuttavia questa strategia differentemente dall'altra presenta una difficoltà in più cioè che il drago non farà nessuna spirale dall'altra parte prima di scendere semplicemente mentre volerà in giro mentre sarà ovviamente dalla parte opposta rispetto alla fontana sempre ma senza fare delle spirali a un certo punto girerà verso la fontana e scenderà e a quel punto voi dovrete essere molto veloci se infatti nella strategia est ovest magari quando vedete il drago che fa le spirali potete già iniziare a scendere potete piazzarvi la vostra barca scendere con tutta calma arrivare alla fontana con tutta calma e piazzarvi i letti con tutta calma nella strategia nord sud dovete essere molto più veloci quindi dovete essere proprio pronti a partire appena vedete il drago appena credete anche che il drago stia per dirigersi alla fontana centrale perché è molto più veloce come cosa ovviamente la strategia nord sud è più lenta ma più affidabile avete più tempo la strategia est ovest è più veloce magari risparmia anche tempo è la strategia più pro diciamo però appunto vi richiede appunto più pro aggine mettiamola in questo modo una volta che vedete il drago che ha fatto il perch quindi appunto quello scatto che fa verso la fontana centrale voi vi dirigete appunto alla fontana centrale ma una volta che vi siete diretti alla fontana centrale dovete guardare da che parte il drago volteggia quindi da che parte dirige la testa voi dovete essere dalla parte in cui il drago dirige la testa e non dalla parte opposta quindi dovete essere appunto dalla parte in cui il drago volteggia mettiamola in questo modo altrimenti se provate a fare il one cycle con i letti dalla parte opposta rispetto alla parte in cui il drago volteggia è estremamente più difficile quindi costruisco il mio pillar quando vedo il drago che sta perciando mi butto giù e cerco di avvicinarmi il più possibile e più velocemente possibile ovviamente in una strategia ho più tempo per farlo dopodiché guardo appunto da che parte sta volteggiando il drago fatto ciò parliamo del one cycle in sé i letti vanno fatti a esplodere in un particolare momento in sua impressione vi metterò one cycle di qualche speedrun che ancora devo scegliere in realtà ma comunque ce ne sono davvero di molto bravi e in questo video potrete attentamente vedere qual è il momento migliore per piazzare i letti innanzitutto nella stragrande maggioranza dei casi a meno che siate delle persone speciali per fare un one cycle come si deve bisogna premere F3 più B premendo F3 più B infatti si vedono le hitbox di qualsiasi mob di qualsiasi giocatore in questo caso si vedono le hitbox di tutti gli endermen e come vedete il drago muove la testa ma l'hitbox della testa che è quella che viene rappresentata dal quadratino con un quadratone anche fuori si muove più in ritardo rispetto alla vera testa del mob questo è il motivo per cui potreste vedere tantissimi speedrunner che quando fanno il one cycle attivano F3 più B quindi premendo F3 più B vedono le hitbox e così sanno effettivamente dov'è l'hitbox della testa e quando far esplodere il letto in modo tale che il letto faccia più danno alla testa del drago che è la parte più debole del drago e il momento migliore per far esplodere appunto il letto è quando la testa del drago si trova sopra al pilastro dopo che il drago ha appena fatto un volteggio mettiamola in questo modo e la testa del drago si trova sopra al pilastro vi metterò il video di questo speedrunner a rallentatore in modo tale che capiate davvero qual è il timing giusto per appunto per fare esplodere il letto provatelo per i fatti vostri è molto difficile imparare questa tecnica ci sono mappe fatte apposta per addestrarsi di cui appunto magari parlerò nel prossimo video se vi accorgete che fate poco danno è perché probabilmente state sbagliando il tempismo potenzialmente si possono utilizzare 4 letti 5 letti o anche 6 letti non è comunque male ovviamente più letti bisogna utilizzare significa che più si è sbagliato il tempismo più si rischia completamente di diciamo fallire il one cycle e più significa anche che dobbiamo aver accumulato letti durante la speedrun quindi risorse in più quindi tempo in più mi raccomando quando fate il one cycle assicuratevi che il drago sia basso vicino al pilastro vicino alla fontana centrale ma non troppo basso altrimenti vi distruggerà il letto quindi il mio unico consiglio per imparare bene a fare un one cycle è fare fare provare 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 nel prossimo video appunto vi metterò la mappa e provando in continuazione se volete imparare a fare un one cycle fatto bene riuscirete piano piano l'importante appunto è provare finché non capite quando è il tempismo giusto finché non siete abbastanza veloci nell'appunto utilizzare il tempismo giusto e completare appunto la vostra spida niente direi che per questo video ho detto più o meno tutto alcune cose potevano essere spiegate meglio come al solito alcune cose potevano essere spiegate più approfonditamente ditemi nei commenti cosa ne pensate qualsiasi opinione di qualsiasi tipo è molto ben accetta se vi è stato utile lasciate un like e noi ci rivediamo nella quarta parte boys bye bye ciao